La sparata del consigliere comunale Giovanni Andrea Martini del gruppo a tutta la città insieme trova la ferma condanna da parte di tutte le forze politiche di maggioranza a Caffarsetti. L'assessore al turismo di Venezia Simone Venturini rispedisce le parole di Martini con sdegno e fermezza al mittente aggiungendo che tali dichiarazioni trasmettono un'idea sbagliata di Venezia ed invitando piuttosto tutti ad abbassare i toni. È molto grave che un consigliere comunale di Venezia inciti i veneziani ad armarsi seppur di pistola d'acqua per scacciare i turisti. L'idea di un gesto così violento come in altre parti del mondo non farebbe bene la nostra città e non ci aiuterebbe a distinguere il turismo di qualità dal turismo invece non di qualità. Il lavoro da fare è un lavoro invece molto più lungo, molto più complesso che stiamo facendo dopo 40 anni di assenza di alcun tipo di ricette da parte delle precedenti amministrazioni. Per Venturini in un momento difficile come quello che stiamo vivendo bisognerebbe invece aprire un ragionamento più ampio evitando di esasperare gli animi. Dobbiamo poi invitare tutti ad abbassare i toni in un momento di fragilità, di difficoltà come quello che stiamo vivendo, di tensioni. Invitare le persone a fare gesti del genere è profondamente sbagliato. Rischiamo davvero che poi ci sia chi passa dalla parola ai fatti e queste persone possono non avere il senso del limite. Quindi davvero abbassiamo i toni, non facciamo interventi del genere perché sono profondamente sbagliati.